Ministro, intanto che voi parlate di sostanziale sussistenza degli operatori del lattiero caseario, noi le ribadiamo che gli altri Stati intervengono, le ribadiamo che l'autorità di garanzia alla concorrenza di Francia e Spagna sono intervenute, le ribadiamo che qui c'è un operatore che lavora in regime semi-monopolistico e che decide i prezzi e che decide per cui la vita o la morte delle singole stalle, tant'è che ad oggi sono state chiuse mille stalle, sono stati persi una marea di posti di lavoro e gli allevatori non chiedono sussistenza, gli allevatori chiedono una programmazione, una certezza dal punto di vista industriale in un settore, il nostro, che non è uguale a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea, ma un settore che per noi è assolutamente primario. Oggi abbiamo aziende che dal punto di vista strutturale sono in difficoltà e non possono fare investimenti, Oggi le previsioni abbiamo aziende che producono al costo più alto di quanto vendono, oggi abbiamo aziende che in una previsione rischiano di perdere contratti per il 50% del latte prodotto già ad aprile, con una discesa del prezzo che potrebbe provocarne la chiusura diretta. Noi ribadiamo questa urgenza e questa emergenza e ribadiamo che da parte del suo Ministero e da parte di questo Governo l'attenzione non può essere alla sussistenza, ma deve essere alla vita di un settore primario che è fondamentale anche dal punto di vista economico.